Dall'alba in Torino e nell'interland torinese, i carabinieri del comando provinciale di Torino stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare messa dal GIP di Torino, su richiesta dalla locale procura della Repubblica, nei confronti degli appartenenti di una banda criminale, dedita ai furti che utilizzavano spray all'ammoniaca per neutralizzare eventuali animali da guardia. 5 le persone destinatari dei provvedimenti cautelari. L'associazione per delinquere è finalizzata alla commissione di incendio, ricettazione, contraffazione di targhe e furti in abitazione di autovetture, i reati a vario titolo contestati. Le indagini dei militari hanno documentato oltre 70 furti, di cui 25 in abitazione in 24 comuni della provincia di Torino. I carabinieri sono riusciti altresì a scoprire il modus operandi del gruppo, che seguiva la programmazione di feste locali e di rosari per eventi funebri, soprattutto nelle piccole comunità, per rubare dalle auto dei partecipanti le chiavi di casa lasciate incostudite. Prima rubavano le chiavi di casa e i documenti dell'auto, poi andavano a svaliggiare l'abitazione.